Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV come sempre alle 7.30 del mattino ci ritroviamo insieme per leggere i giornali lo facciamo tra un istante allora vediamo adesso il santo del giorno oggi intanto è giovedì santo, su questo non ci piove si ricorda la cera del Signore entriamo nel momento clou dell'anno si festeggia anche San Francesco da Paola è bene per esempio ricordarlo che è un altro grande santo italiano calabrese di Paola, provincia di Cosenza e protegge gli eremiti, marinai, naviganti, pesci vendoli, le coppie sterili affinché abbiano un figlio allora il sole è sorto alle 6.48, tramonterà alle 18.36 vediamo la fotografia della città di Fano alle 7.30 del mattino oggi avremo ancora una giornata di sole, è un po' freschino vedete 5 gradi rispetto ai 10 dei giorni scorsi a quest'ora 5 gradi, il che significa che è un po' freschino avremo cielo sereno invece per quanto riguarda la giornata di oggi così come quella di domani anche se le nuvole andranno ad aumentare infatti vedete sabato, sabato avremo pioggia con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio tempo instabile anche nella giornata di Pasqua con alta probabilità anche nella giornata di lunedì temperature in diminuzione a Fano ieri si è diffusa, quando si è diffusa la notizia della morte di una donna fanese di 41 anni a Roma questa notizia ha fatto subito il giro del web, di internet, dei social network innanzitutto per cercare anche di capire chi fosse questa donna che aveva fatto questo gesto così tragico poi si è capito che era un architetto, un architetto di 41 anni Silvia Gadani di cui parlano questa mattina i quotidiani e pubblicano anche la fotografia Silvia, qui siamo sul resto del carino di Fano Silvia, architetto morta a Roma, i carabinieri seguono tutte le piste era appesa ad un albero, l'allarme è stato lanciato di notte da alcuni passanti perché è stata vista intorno alle 2.20 di ieri mattina alcuni passanti hanno lanciato l'allarme al 112, hanno notato il corpo di una donna appesa nel quartiere Prati a Roma i carabinieri seguono tutte le piste, l'arma ha cercato indizi nell'ufficio di via Roma che lei divideva con alcuni colleghi sempre su questo argomento la pagina di Fano pubblica tra l'altro anche un'altra fotografia di Silvia con un cane Silvia era un amante degli animali ma li amava davvero tantissimo qualche amica racconta addirittura che si fermava a prendere addirittura che curava gli animali feriti feriti che trovava per la strada un amore esagerato per questi animali la trovano impiccata con un foulard, questo è il titolo invece del Corriere Adriatico nel rione Prati di Roma la tragedia di Silvia Gadani, 41 anni, architetto fanese disposta all'autopsia, la donna aveva litigato con il fidanzato che era andata a trovare nella capitale lo frequentava da pochi mesi che prima di morire un sms sulle medicine per il padre un oggetto importante lasciato in un cassetto dell'ufficio di Via Roma è stato questo uno degli ultimi pensieri di Silvia che prima di morire si è preoccupata di far arrivare un messaggio alla sorella in un sms la donna scriveva di avere lasciato qualcosa come per dimenticanza in un cassetto del suo ufficio dando precise indicazioni per ritrovarlo e gli amici la ricordano come una ragazza, una donna forte, simpatica e non credono assolutamente al suicidio animalista tenace, era stata presidente dell'EMPA, pesarese i soci, un salice che si piega e non si spezza andiamo sulla pagina del messaggero di Roma che avendo la sede nella capitale ha seguito sin da subito con maggiori dettagli questa vicenda si impicca ad un albero per amore l'architetto fanese Silvia Gadani presidente provinciale EMPA trovata senza vita a Roma dopo l'ennesima lite con il fidanzato la macabra scoperta fatta l'altra notte da alcuni passanti nel quartiere Prati dolore e sgomento disposta all'autopsia nel pomeriggio si è allontanata da sola dalla casa dove lui abitava il corpo rivenuto poi nella stessa via gli animalisti dicono un lutto disperato dopo la separazione con il marito la donna aveva avuto una relazione molto tormentata appunto con quest'uomo nella capitale e lei dice lui è la mia malattia è la sua cura diceva spesso del compagno a tratti non sembrava più lei e sotto Natale era stata salvata dalle amiche più care che si erano insospettite dopo aver ricevuto un sms dove diceva che sarebbe andata a pranzare con la mamma deceduta mesi fa un sms toccante ma che evidentemente ha preoccupato non poco le persone che le stavano vicino Silvia aveva cercato in vari modi di interrompere quella relazione ma lui la tormentava con email e messaggi vista la sua predisposizione ad aiutare gli altri è rimasta intrappolata in questo vortice oscuro scrive Raffaella Troili del messaggero ora ci prenderemo cura dei suoi animali come lei avrebbe voluto andiamo sulle altre notizie sempre dalla pagina del resto del Carlino manca il numero legale in Consiglio Comunale perché il sindaco secondo il Carlino dimentica il cellulare la temporanea assenza di due consiglieri eccellenti il sindaco Massimo Seri e il capogruppo di Noi Città Riccardo Severi priva la maggioranza del numero legale e così il Consiglio Comunale si scioglie più in alto di fianco alla testata il pesce azzurro a Senigallia apre il suo quinto punto ristoro da sabato vicino alla rotonda apre il quinto punto di ristorazione sul service del pescato dei soci della cooperativa Comar Pesca e quindi c'è questo nuovo investimento da parte di questa cooperativa che ha fatturato l'anno scorso qualcosa come 6 milioni di euro un gruppo che nel 2014 ha segnato un traguardo di 400 mila clienti con un fatturato di 6 milioni di euro e 120 persone occupate vecchi e poveri in città tanti vivono con 400 euro l'emergenza sono dati snocciolati dal sindacato della CISL dati allarmanti sulla terza età a Fano parte la raccolta di firme CISL per un fisco più equo ci sono 10 mila pensionati nella città di Fano un numero importante se si pensa che la popolazione totale è di poco superiore ai 60 mila abitanti strade groviera lavori al via dopo Pasqua finalmente il comune ci mette le toppe duplice intervento con fondi comunali e regionali dalle grandi arterie a quelle minori da quelle di campagna alle vie del centro ecco l'elenco delle strade che verranno appunto asfaltate lo trovate questo elenco nel giornale di questa mattina in edicola andiamo avanti subito le altre pagine del resto del Carlino i funerali di Davide Bronzini sono ancora lontani nel tempo ricorderete questo giovane sfortunato di Marotta che viveva da ormai quasi 5 anni negli Stati Uniti ebbene questo ragazzo è morto purtroppo la notte tra il 19 e il 20 marzo scorso in un incidente stradale il suo funerale slitterà probabilmente a dopo Pasqua ma potrebbero racconta la zia di Davide potrebbero volerci ancora più di 15 giorni per il suo rientro in Italia protezione civile la carica dei 2000 all'esercito dei volontari a rapporto a Cartoceto i vertici fanno il punto sulle strategie e sulle tecniche il troni il troni di Rio Salso preso di mira davvero il caso di dire dai ladri c'è stato un altro assalto tentano di chiudere in casa i titolari due banditi forse i soliti in azione ma rimangono a mani vuote sbarrate dall'esterno le porte per impedire ai cecchini i titolari di intervenire loro dicono siamo ormai al far west c'è una accordata di tedeschi pesaresi e fanesi per far riaprire il cantiere navale di Pesaro ieri è stata depositata l'offerta in tribunale ci sono ecco i termini dell'operazione tempi stretti solo 60 giorni per la risposta sul piatto 500 mila euro per quanto riguarda le società dicevamo c'è questa società tedesca che opera nell'ambito dei catamarani poi c'è un'altra società che fa capo ad Aurelio Lonoce e poi quella di Fano la Naderia Yacht di Fano quest'ultima è una società che ha un progetto innovativo basato sulla idrodinamica e quindi sono loro che tenteranno il rilancio del cantiere navale a Pesaro andiamo sul Corriere Adriatico adesso Frane sul Salbartolo pronto il cronoprogramma di interventi dopo Pasqua il primo sopralluogo dei tecnici inviata alla Regione Marche una variante al progetto iniziale per far ripartire la ricarica delle scogliere previsto lungo i tratti più critici della strada del mare un intervento in parete addirittura dei rocciatori a Pesaro nelle casse comunali c'è un avanzo di 38 milioni di euro Ricci e delle noci Sindaco Assessore amministrazione virtuosa ma adesso chiediamo l'allentamento del patto di stabilità poi c'è spazio anche per replicare la polemica sul cellulare del Sindaco Matteo Ricci che i grillini avevano sbandierato in un consiglio comunale dicendo che era costato 900 euro che l'avevano pagato i cittadini non è il mio dice il Sindaco e questa è una polemica e bolla la polemica come una polemica ridicola torniamo sul Corriere Adriatico di Fano i pensionati emergenza sociale vogliamo un fisco più giusto e poi cancellata la scritta oscena sull'arco d'Augusto è intervenuto come sempre nel caso di dire tempestivo l'associazione Regresso Arti dirigenti mozione bocciata taglio di posti e di stipendi maggioranza sta d'accordo con i grillini ma la scelta è stata rinviata poi le indennità più alte nelle due società di Aset per quanto riguarda l'amianto 140.000 euro per bonificare i casi urgenti mascherini riferisce di 565 segnalazioni ancora dal Corriere da Fratterosa terra cruda si aggiudica due medaglie d'argento due straordinari vini prodotti dall'azienda premiati al concorso internazionale di Lione da Pergola siamo la città del turismo tutto l'anno e poi da Orciano zone a rischio sismico si lavora alla carta dell'Unione Roveresca 5 amministrazioni si affidano al SAI per mappare il territorio poi un appuntamento molto importante che vi segnaliamo domani sera l'appuntamento a saltare alle 21 e 30 con la passione di Cristo un tuffo nel Medioevo apriamo il messaggero comune tesoretto intoccabile Pesaro ha in cassa 38 milioni di euro ma non può spenderli bloccati dal patto di stabilità Ricci con quei soldi potevamo ribaltare la città delle noci ora lotta agli evasori del limo a centro pagina ex amga i tempi si allungano si complica infatti la bonifica poi la cronaca ancora si impica per amore in un viale della capitale morta a Roma l'architetto Gadani presidentessa dell'ente nazionale per la protezione animali e poi un sexy shop negli orti per gli anziani ma era un pesce radio e siti web scatenati per il primo d'aprile e non è mancato lo scherzo sulla salvezza della VL all'interno delle pagine del messaggero dalla pagina delle Marche con la cronaca con le notizie politiche liste del PD fuori come i quattro assessori e il capogruppo Ricci i dubbi di Ceriscioli nessun esponente di minoranza a Pesaro e le decisioni di Marcolini di non candidarsi a Macerata i 30 in Lizza per il consiglio spacca o Lega Forza Italia attende la scelta di Berlusconi e ancora sempre dalle pagine interne del messaggero andiamo subito su quella di Fano per chiudere la nostra segna stampa manca il numero legale salta il rilancio del turismo l'opposizione polemizza per i vuoti lasciati dalla maggioranza in consiglio comunale poi ripulito dai volontari l'arco d'augusto imbrattato dalle scritte e ancora giornata dell'autismo iniziative al Santa Croce e anziani a Fano 800 vivono con 400 euro al mese il sindacato Cisle sulle condizioni dei pensionati e direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la segna stampa di oggi grazie per averci seguito vi ricordo visto che siamo entrati appunto nella settimana nella triduo pasquale che ci sono diversi appuntamenti anche in diretta su Fano TV con replica su Televoce Cristiana canale 216 alle 9 e 30 la diretta dalla Basilica Vaticana con la Santa Messa del Crisma presieduta da Papa Francesco questo alle 9 e 30 quindi va da sé che la Messa che abitualmente trasmettiamo alle 8 e 30 del mattino questa mattina non ci sarà mentre alle 17 e 30 di oggi pomeriggio sempre in diretta dal carcere di Re Bibbia la Santa Messa in Cena Domini quindi 9 e 30 e 17 e 30 in diretta su Fano TV tutto in replica dalle 21 in poi sul canale 216 di Televoce Cristiana grazie per averci seguito a presto a presto